Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. In Fipilì, in viaggio verso Firenze, tratto riaperto dopo un incidente tra il bivio Fipilì A12 Genova Livorno e Interporto Toscano Ovest. In A1 si viaggia in direzione Bologna incolonnati per incidente tra Calenzano e il bivio A1 variante. L'incidente si è verificato al chilometro 265. Da oggi alle 21 verrà chiusa via Bolognese a Firenze per lavoli notturni di ripristino da via Salviati a via di Careggi dopo la perdita d'acqua del fine settimana. Per itinerari alternativi consigliato il passaggio da Piazza delle Cure e via Faentina. Implementazione di cantieri in piazza San Marco a Firenze con le demolizioni dell'Aiuole Sparti Traffico. Deviazioni segnalate in blocco. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Buon viaggio!